Cos'è un arbitraggio? Qualcuno ha una mezza idea di cosa sia un arbitraggio? Così cerchiamo di capire in questa prima mezz'oretta perché siete qua, perché ancora non l'avete focalizzato, giusto? Cos'è un arbitraggio? Un arbitraggio è un'operazione che consiste nell'acquistare essi simultaneamente nel vendere lo stesso tipo di strumento su due exchange differenti. Ora immaginate di comprare bitcoin su un exchange che potrebbe essere, stavo per dire FTX, ma no, su FTX non lo comprate più, potrebbe essere Binance, qui ancora per un po' dovreste cavarvela, e andare a vendere quello stesso bitcoin simultaneamente su un altro exchange, potrebbe essere Kraken. Perché mai dovreste fare un acquisto e una vendita simultanea dello stesso tipo di strumento su due exchange diversi? Perché quel mondo lì, il mondo delle cripto è ancora un po' un far west, quindi non è chiaramente un mercato regolamentato, non c'è una quotazione ufficiali, ogni exchange più o meno si quota le cose a modo suo, e si creano delle opportunità di piccoli disalineamenti che possono essere catturati. Ora non è semplice farlo, ma ci sono queste cose, e si possono effettivamente andare a intercettare. Io non lo farei con le cripto, forse voi, per una questione molto semplice, questi exchange sono molto fragili. Per poter fare questi arbitraggi, poter lucrare qualcosina, che vuol dire qualche frazione di satoshi, qualche satoshi, cioè parlando di bitcoin, parlando veramente di cose piccoli e disalimenti molto piccoli, per poterlo fare occorre entrare abbastanza pesanti. Ed entrare molto pesanti vuol dire detenere liquidità su questi exchange, è abbastanza importante, ma questi exchange non sono proprio così solidi, dove andare a parcheggiare parecchia liquidità. Ecco perché è un gioco questo un po' pericoloso, che vi sconsiglierei un pochino di fare, però se qualcuno ha voglia, questo è un mondo ancora possibile farlo. Tanti anni fa era possibile farlo sul forex, oggi sul forex è quasi impossibile farlo, perché è talmente tanto risicata la ciccia che c'è, che non si riesce più a quasi fare nulla. sugli exchange regolamentati è qualcosa quasi di impossibile oggi. Ma perché è quasi impossibile? Perché non siete voi gli operatori che possono fare queste cose, sono altri operatori che possono farlo. E lo fanno, facendolo, riallignano queste quotazioni diverse. Sull'azionario americano, non so se lo sapete, ma ci sono tante reti elettroniche su cui vengono scambiati questi contratti. L'azionario americano, il fatto stesso che tu abbia delle quotazioni che convergono più o meno sugli stessi valori, è proprio grazie al lavoro che fanno gli arbitragisti, che non fanno altro che andare a riallineare queste quotazioni facendo questi arbitraggi e facendoli vanno a chiudere le quotazioni, a farle riconvergere, di modo che spariscono queste differenze fra queste reti elettroniche che ci sono. Col forex, stessa cosa, è una cosa che si faceva un paio di anni fa, oggi non si fa più sui futures o su altri mercati, oggi è quasi impossibile. Quindi non è questo il tipo di arbitraggi di cui parleremo qua in questo camp, ok? Parleremo di fare operatività long e short, tutto il camp da oggi fino a giovedì è tutto dedicato all'operatività long e short. Noi saremo sempre long qualche cosa, short qualcos'altro. Non ci sarà mai qualcosa che noi apriremo come posizione che è squisitamente direzionale, quindi o solo long o solo short. Noi saremo sempre divisi fra una posizione long e una posizione short. Adesso vedremo che cosa andremo a tradare long e cosa andremo a tradare short. Questo tipo di arbitraggi purtroppo, che vi dicevo prima, non è alla nostra portata, è alla portata di altri tipi di operatori, però noi ne faremo comunque altri. Questo ad esempio è il lavoro che inizieremo oggi, chiuderemo domani, che è tutto il lavoro di arbitraggio sui contratti futures. Lavoreremo ad esempio arbitraggiando il differenziale di valore che c'è fra due scadenze dello stesso contratto future. Questa è un'operatività che avrete già sentito, si chiama intramarket, si può operare lavorando sullo stesso contratto future, in natural il gas ad esempio, vendendo una scadenza che potrebbe essere settembre e comprando quella di dicembre. Perché mai dovrei farlo? Adesso ve lo faccio vedere il motivo del perché dovreste farlo e quando dovreste farlo, in quali condizioni. Ci sono due buone ragioni per farlo, che adesso vedremo. Una prima buona ragione a che fare con le stagionalità. Ci sono certi momenti dell'anno in cui conviene andare a comprare una scadenza, vendere un altro, viceversa. L'altra buona ragione è quello che approfondiremo domani pomeriggio e ha a che fare invece con un fenomeno chiamato di backwardation, quindi dove andremo a osservare una relazione tra i prezzi di ciò che venderemo e ciò che compreremo che è un po' anomala. Su questa anomalia noi entreremo puntando su un ritorno alla normalità. Questo è un po' le buone ragioni che troveremo dietro a un'operatività in cui comprare quello stesso future e venderlo, ma su due scadenze differenti. C'è una parte, un po' di lavoro che faremo per vedere come calare un po' in pratica tutto, quindi c'è un po' di lavoro che andremo a fare su Interacti Broker. Ho preparato già nelle slide un po' di passaggi per mostrarvi un po' come, un po' di consigli, un po' di suggerimenti per mettere in pratica quest'operatività. La buona notizia è che quest'operatività richiede capitali abbastanza contenuti, in quanto quando lavoreremo in spread intramarket fra due future vedrete che la marginazione richiesta sarà mediamente un quarto, un quinto rispetto a quella che potreste avere sul singolo contratto future, quindi sarà molto leggera come operatività. Chiaramente troveremo qua, adesso vi farò vedere più o meno una quarantina, 35-40 diverse operatività fra questi future intramarket non è mica detto che le facciate tutte, magari ne farete alcune sì, altre no, però vedrete che abbastanza l'ha portato un po' di tutti. L'altro per attività, vi dicevo, l'altro pretesto su cui faremo leva per andare a lavorare un future contro un altro future dello stesso tipo, ma su scadenze diverse, è legato alla presenza di backwardation, di contango. Faremo diversi esempi, apriremo anche una scatola che è quella del VIX, dove c'è qualcosina in più che potremo fare rispetto a chi magari ha già visto il corso 3D meccanico sul VIX. Chi di voi l'ha già visto quel corso lì? 3D meccanico sul VIX, qualcuno fra voi? Sì. Ecco, faremo uno step ulteriore adesso perché vedrete che c'è modo di poter lavorare proprio andando a lavorare una scadenza contro l'altra o più scadenze long e altre scadenze short proprio sul VIX con il future del VIX, anche con il mini future del VIX che sapete che è disponibile, che è un decimo, quindi già era molto frazionato usando il future grosso, con il mini diventa veramente una roba molto molto leggera. Quindi questo è un po' il lavoro che andremo a completare se la salute regge domani sera. Questo è quello che andremo ad aprire invece nella giornata di martedì. Martedì parleremo di azioni, vedremo come portare questa idea dell'arbitraggio però sulle azioni. Chiaramente quando lavoriamo facendo arbitraggio su azioni cambia il modo di farlo perché diventa un intermarket, cioè devo lavorare un'azione contro un'altra. Non posso lavorare due scadenze della stessa azione, ma è l'azione mica c'ha le scadenze, l'azione è quella lì. La negozi, quello che posso fare per fare arbitraggio fra azioni è lavorare un'azione contro un'altra, ma che abbiano in comune un legame particolare. È proprio quel legame che andremo ad approfondire nella giornata di martedì. Martedì parleremo di arbitraggio statistico. Vedremo come farlo, vedremo quali sono i presupposti teorici che ci sono dietro, come portarlo poi in pratica e vedremo anche, anche in questo caso, quanto capitale necessario, vedremo un pochino di procedere un po' con anche un po' tutte queste indicazioni più operative. Questo invece è quello che ci aspetta nella giornata di mercoledì e di giovedì, e cioè lavorare direttamente con le opzioni. Com'è che lavoreremo con le opzioni? Vediamo se è questo. Com'è che lavoreremo con le opzioni? Nella giornata di mercoledì lavoreremo con le opzioni, quelle che abbiamo chiamato 1DTE, cioè One Day to Expiration, vuol dire lavorare a ridosso della scadenza, ma ancora un giorno per l'altro, tanto per capirci quindi con un giorno ancora di vita di queste opzioni. E lì vedremo di fare un po' di lavoro per presentarvi un portafoglio che abbiamo costruito con alcune idee per lavorare un po' così stretti, così ridosso a scadenza. Ma chiaramente il tema sarà riuscire a isolare qualche operatività da fare su qualche azione dove abbiamo abbastanza ciccia da poter tirare fuori average trade capienti per i costi di transazione. Sapete che quando lavoriamo con le opzioni su azioni il problema di fare strategie un pochino complicate sono i costi di transazione. Quando poi lavoriamo anche su orizzonti molto stretti, una giornata, due giornate in posizione, il problema sono i costi di transazione. Dobbiamo in primis recuperare quello che è il drag delle commissioni. Qui vedremo che è possibile farlo e c'è un po' di lavoro che ho fatto da condividervi per vedere un po' da che possiamo lavorare. L'altra parte invece che vedremo giovedì è quella invece dedicata solamente a S&PX e quelle che abbiamo chiamato le zero date expiration, ma non noi. Le opzioni che vanno un po' più adesso per la maggiore e sono quelle su cui si stanno concentrando i maggiori volumi giorni nell'ultimo anno. È da un anno circa che il CBOI ha quotato tutte le scadenze di tutti i giorni nella settimana per queste opzioni su S&P 500, quindi avete delle opzioni su S&P 500 che scadono in ogni giorno. Il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì. Inizialmente dal 2012-11 erano quelle del venerdì, poi hanno aggiunto quelle del mercoledì. Adesso da un anno a questa parte hanno messo anche il martedì e il giovedì. Adesso abbiamo un quadro completo. Ogni giorno della settimana c'è un'opzione che scade su S&PX. Questo ci permette di lavorare tutti i giorni con delle strutture montate a mercati aperti che scadono con lo stesso giorno. Vi faccio vedere un po' il lavoro che abbiamo fatto giovedì per mostrarvi un po' quello che abbiamo tirato fuori su questo tipo di operatività. Qui per poterla fare abbiamo dovuto fare un impiestimento noi di acquistare direttamente le serie storiche, premi di S&P 500 con granulità a un minuto, quindi sono le quotazioni intraday che sono state rilevate ogni minuto là fuori. Non è un database che possiamo condividervi perché ha una dimensione mostruosa. Penso che sia un terabyte, un terabyte e mezzo è la dimensione di quell'anno perché è un anno solo da quando sono disponibili tutte queste scadenze. Abbiamo da maggio del 2022 ad oggi rilevato questo anno, preso questo anno di database di premi a un minuto, è un terabyte e mezzo da navigare, quindi è una cosa abbastanza improponibile. Abbiamo fatto però un lavoro per snedirlo un pochettino e andare comunque a recuperare una precisione veramente molto elevata però con un campionamento a 30 minuti. Quindi noi potremmo intervenire in quella giornata a finestre di 30 minuti però sapendo che quello è esattamente i premi scambiati al minuto esatto di quella giornata lì. Quindi adesso giovedì vi spiegherò un pochino meglio come funziona però lì vedremo veramente di poter fare delle analisi per la prima volta con l'Option Lab con una precisione che finora non abbiamo mai avuto. Perché anche lo scorso anno per chi di voi era al camp qui lo scorso anno si ricorderà che abbiamo recuperato parecchia precisione lavorando col sottostante perché adesso Option Lab la versione pro c'ha dentro anche il sottostante con le quotazioni a un minuto però i premi delle opzioni durante la giornata borsistica erano ancora campionati. Campionati vuol dire che modellati, non campionati, modellati, erano modellati vuol dire che io avevo una serie di informazioni che utilizzavo per andare a fare una stima al più quadratta possibile dei premi di queste opzioni durante la giornata. Quelli a fine giornata sono invece quelli ufficiali del supplement. Questo è un po' il lavoro che mi ha fatto lo scorso anno. Quest'anno ci serve a maggiore precisione abbiamo fatto un lavoro ulteriore che adesso vi presenteremo nella giornata di giovedì ed è un po' quest'ultimo blocco qua dove lavoreremo anche in questo caso su questa idea di posizioni aperte poche ore. È una cosa un po' curiosa con le opzioni questa. Chi lavora con le opzioni è normale avere posizioni che restano aperte molti giorni con le opzioni, settimane, a volte anche mesi. L'idea di stare in posizione solamente un giorno piuttosto che poche ore è qualcosa di un pochino atipico. Ci serviva maggiore precisione, l'abbiamo ottenuta. Adesso vi faremo un pochino vedere giovedì che strategie si possono utilizzare. Vi anticipo già che una delle strategie, quella più interessante, che vedremo giovedì io non l'avevo mai utilizzata nella mia vita.